Buongiorno a tutti e benvenuti, sono Eleonora Zanzini e con me vedrete il funzionamento all'interno del programma dell'adempimento comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ovvero vi mostrerò come funziona la comunicazione dei dati e come si predispone all'interno del gestionale. Mi aiuterò in parte con le slide dove vi mostrerò i punti salienti relativi ai passaggi che dovete compiere per poter predisporre la comunicazione e poi andremo sul gestionale. Sul gestionale vedremo direttamente un esempio di invio dei dati al sistema ricevente utilizzando naturalmente il nostro ambiente di test, vedremo anche una prova nella quale ho simulato uno scarto, quindi comunque è presente all'interno del file di dati che invieremo un motivo di errore, per cui vi farò anche vedere come gestire questo passaggio, ovvero in seguito allo scarto cosa occorre fare, così per esaminare più o meno tutte le situazioni che potete avere realmente nei vostri studi o comunque nelle vostre aziende. La versione che è uscita ieri, che è la 2017H, completa le funzionalità relative alla predisposizione della comunicazione dati e fatture emesse e ricevute. Il menu che si deve utilizzare per predisporre la comunicazione è stampe fiscali contabili, deleghe e comunicazioni via telematici, comunicazione dati fattura. Questo menu è composto da una serie di voci che sono quelle che potete vedere nell'immagine, l'elaborazione prima nota, le anagrafiche clienti, fornitori e azienda, l'immissione e revisione, la stampa del brogliaccio, la creazione e gestione pacchetti dati da trasmettere, l'impegno alla trasmissione, l'invio telematico, la stampa ricevuta esito invio e le tabelle. Vedete, sono diverse le funzionalità che compongono la predisposizione di questa comunicazione. Cercherò di passare in rassegna in tutte queste voci, in modo tale da darvi una rappresentazione il più possibile completa delle casistiche che vi possono capitare. Ora, in questa slide vi ho repilogato una serie di parametri che sono funzionali a questo adempimento. Innanzitutto, a partire dall'anno solare 2017, nei parametri attività IVA, è presente un parametro che si chiama escludi da comunicazione dati fattura. A cosa serve questo parametro? Se lo impostiamo a sì e lanciamo eventualmente la modalità multiaziendale di elaborazione, quindi su tutte le aziende con l'azienda STD, chiaramente cosa succede? Che l'azienda in questione viene esclusa dalla elaborazione. Questa esclusione avviene anche per quelle aziende che hanno una gestione fiscale impostata ad Y, ovvero parliamo dei forfettari 2015, di cui alla legge 190 del 2014, e vengono automaticamente esclusi anche quei soggetti cosiddetti superminimi, di cui al decreto legge 98 del 2011. Per noi il parametro in quel caso è U, superminimi. Queste tipologie di azienda, che sarebbero escluse effettuando l'elaborazione da STD, escluse perché chiaramente in un caso è imposto il parametro, nell'altro sono soggetti non tenuti alla comunicazione, possono però essere comunque elaborate operando da singola azienda. Quindi se l'utente, per un caso suo da gestire, deve elaborare la comunicazione, da singola azienda può operare anche in queste casistiche. Poi, altri campi funzionali all'adempimento. Escludi documento da elaborazione e comunicazione dati fatture. Questo campo si trova in prima nota, si abilita posizionandosi sul campo importo del cliente o fornitore, premendo il pulsante segnalazioni varie, poi ve lo mostro direttamente sul gestionale, e permette ovviamente di fare che cosa? Di escludere quel documento dalla elaborazione della comunicazione. Un altro punto del programma dove posso escludere un documento è relativo all'immissione corrispettivi mensili, in particolare mi riferisco alle annotazioni di fatture emesse a fronte di scontrini. Anche qui è possibile escludere quel documento. Come si fa a predisporre la comunicazione col gestionale? Per utilizzare tutti gli automatismi che rendiamo a voi disponibili, occorre eseguire l'elaborazione prima nota. L'elaborazione prima nota che cosa fa? Va ad alimentare e a popolare due archivi, che sono le anagrafiche clienti fornitori azienda e l'immissione revisione. Poi dal programma capirete bene di che cosa parlo. Qui ho riepilogato i punti salienti di una eventuale sintesi operativa necessaria a predisporre la comunicazione. Punto 1. Creazione e integrazione del fornitore telematico. Questo primo punto è fondamentale ed è necessario nel caso in cui noi dobbiamo creare il file telematico, ovvero al fine di creare il file telematico occorre sia presente e specificato il fornitore telematico. Faccio una precisazione, per tutti coloro che hanno già inviato con il nostro gestionale la comunicazione della liquidazione periodica IVA, queste informazioni sono già state impostate in quella sede, per cui io adesso ve le faccio vedere, chiaramente per chi non le conosce le vedrà oggi, ma per chi ha già fatto il telematico per la liquidazione periodica IVA, questi dati sono già a posto, quindi sono già stati impostati. Punto 2. Elaborazione prima nota e gestione. Punto 3. Creazione e gestione pacchetti dati da trasmettere. Questo punto è propedeutico alla creazione del telematico, poi dopo lo vedremo bene nel dettaglio. Punto 4. Generazione invio telematico. Ora, la comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute, in che modalità i dati vengono trasmessi per questa comunicazione? Occorre un formato file di tipo XML, come accadeva anche, se vi ricordate, per la liquidazione periodica IVA. Però, in questo caso, nelle istruzioni, quindi nella normativa, nel famoso provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo, dove sono riepilogate le modalità operative per compilare questa comunicazione, viene specificato che devono essere file distinti per gli acquisti e per le vendite. Questo proprio nelle specifiche tecniche è ben visibile perché i blocchi, in particolare il blocco delle fatture di acquisto, che è il cosiddetto blocco DTR, e il blocco vendite, DTE, non possono comparire insieme. Pertanto va da sé che dobbiamo fare due file. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo predisposto la creazione dei pacchetti. Poi dopo vedremo nel dettaglio anche altre motivazioni. Il file deve essere firmato elettronicamente. Come si fa a fare la firma elettronica? Possiamo fare una firma di tipo qualificata, ovvero la cosiddetta firma rilasciata da un certificatore accreditato. In questo caso parlo della firma che potete apporre con la smart card o con una chiavetta USB, come per esempio quando andate ad inviare in camera di commercio il bilancio XBRL. Quella è una firma qualificata. Oppure può essere firmato elettronicamente con una firma basata sui certificati entrate. Tipicamente qui pensiamo al commercialista che autentica il file con le chiavi private che gli ha fornito l'agenzia delle entrate. Oppure come possiamo firmare in alternativa? Con il cosiddetto sigillo. Il sigillo è definito dall'agenzia delle entrate e si appone accedendo al portale web fatture corrispettivi. Questo portale sicuramente già lo sapete, ma è il portale che l'agenzia delle entrate ha istituito ad hoc per questi nuovi adempimenti, quindi sia la liquidazione periodica IVA sia i fatture corrispettivi. Come per la liquidazione periodica, anche in questo caso, non è possibile inviare i file tramite la piattaforma desktop telematico. Inoltre, ad oggi, non è previsto il rilascio da parte dell'agenzia delle entrate dei controlli SOGEI. Su questo punto faccio una precisazione. Dentro al gestionale trovate una procedura di controllo, che si attiva anche nella gestione del pacchetto. Questo controllo, però, è un controllo di tipo strutturale, ovvero viene verificata la conformità del file al tracciato XML, basandosi sul file XSD che è stato fornito in sede di rilascio delle istruzioni da parte dell'agenzia. Cosa significa fare questo controllo strutturale? Significa verificare che, ad esempio, un campo che prevede solo un dato numerico non contenga dati differenti. Pertanto, ci troveremo di fronte a delle situazioni nelle quali il controllo riporterà un file validato, quindi possibile un file che può essere inviato, ma solo in sede di acquisizione della ricevuta da parte dell'agenzia delle entrate, noi potremo verificare se effettivamente quell'invio viene accettato oppure quel file viene scartato, perché solo l'agenzia, visto che non è stato rilasciato un software di controllo, completerà tutti i controlli che mi diranno se quel file è corretto o meno. Bene, ora abbiamo visto nella sintesi operativa di prima che il primo passaggio è la creazione e integrazione del fornitore telematico per creare il file. Questi sono appunto quei passaggi che vi accennavo precedentemente. Se avete già fatto la liquidazione periodica, vi trovate nel gestionale già impostati. Per chi non avesse mai fatto quell'adempimento con noi, chiaramente sono informazioni che devono essere inserite al fine di poter creare il file. I casi che si possono verificare sono due. Caso 1. Contribuente che trasmette le proprie comunicazioni, tipicamente l'azienda che ama Exal. In questo caso, nella tabella degli intermediari fornitori del servizio telematico, io devo aver codificato un fornitore che abbia la tipologia 1. Successivamente devo andare ad impostare i parametri del sistema ricevente in menu azienda, anagrafica azienda, attivando il pulsante fatture XML, sistema ricevente, conservazione sostitutiva. All'interno di questa finestra che vi ho qui riportato con l'immagine, parametri invio sistema ricevente, devo dichiarare alla procedura se la trasmissione avverrà con Passpartout, quindi utilizzando tutti gli automatismi del programma, oppure avverrà in modalità autonoma. Inoltre devo specificare come viene apposta la firma, se la firma è di tipo qualificata oppure basata sui certificati entrate. Nella parte sottostante verranno memorizzati i progressivi dell'ultimo invio, relativamente alla liquidazione e alla dati fattura. Quindi questo caso 1. Caso 2, intermediario che trasmette le comunicazioni di altri soggetti. Tipicamente pensiamo alla situazione del commercialista che utilizza Passcom. In questo caso, nella tabella degli intermediari fornitori del servizio telematico, io devo avere un fornitore di tipo 10. Successivamente, devo impostare quei parametri che ho visto prima, tipo trasmissione e tipo firma, nella pagina 3 della stessa tabella. In particolare, devo sempre comunicare al programma come voglio trasmettere i dati, se con Passpartout o in autonomia, e come firmo. Bene. Una volta quindi impostato che la trasmissione, ad esempio, viene fatta con Passpartout, che cosa succede? Il programma apre un modello di delega, una delega vera e propria, che il soggetto, in un caso il commercialista, se siamo in fornitore 10, nell'altro caso il contribuente, deve accettare nel caso in cui voglia effettuare l'invio e la trasmissione, utilizzando il canale di Passpartout, che è accreditato al sistema di interscambio sistema ricevente. Quindi, confermando quella delega che viene visualizzata una volta che io ho impostato questi parametri e ho confermato con OK, si accetta, praticamente, l'adesione al servizio. Ora, in questa slide ho riepilogato quello che sono i due campi che vi ho accennato precedentemente. Li vado a ripetere. Se la trasmissione è in autonomia, con il programma facciamo la creazione e il controllo del file. L'invio è a cura dell'utente. Se invece utilizziamo la trasmissione con Passpartout, con il programma cosa facciamo? Creiamo il file, lo controlliamo e lo firmiamo e lo inviamo. Previa delega che incarica Passpartout alla trasmissione, come vi accennavo precedentemente. La firma nel campo tipologia la posso impostare, quindi, scegliendo la firma a entrate. Nel caso specifico, di solito, qui pensiamo al tipico esempio del commercialista che usa l'autentica fondata sulle sue chiavi private, oppure la firma qualificata, ovvero rilasciata da un certificatore accreditato, firma con smart card, come vi dicevo. Ora entriamo più nel merico di quello che riguarda proprio la predisposizione della nostra comunicazione dati fattura. Qui ho sintetizzato una serie di verifiche propedeutiche che sono da effettuare prima di fare l'elaborazione prima nota. Partiamo da questa affermazione che ho sottolineato. Per le aziende che non si avvalgono dei raggruppamenti standard 80-81, quindi presumibilmente la minoranza di voi, occorre andare ad impostare il campo natura operazione fattura XML. Cosa significa? Significa che la natura, che praticamente, vi diceva anche precedentemente Andrea, è un dato che deve comporre il nostro tracciato, che specifica come mai nel documento non è presente l'imposta, va indicato a cura dell'utente, perché non essendo un'azienda di raggruppamento, quell'aggiornamento non lo facciamo noi. Ma dov'è che dobbiamo specificare questa natura? La dobbiamo specificare in queste tabelle. Nelle tabelle dei codici di esenzione IVA, se l'azienda ha attivo il regime dei beni usati, anche nella tabella codici IVA beni usati, se l'azienda è un'agenzia di viaggio, anche nella tabella dei codici articolo 74 TER. Quindi, solo se non abbiamo i raggruppamenti, che non ci avvaliamo dei nostri raggruppamenti 80 e 81, dobbiamo andare ad indicare noi la natura in queste tabelle. Poi, cosa dobbiamo verificare? Dobbiamo verificare le informazioni che sono contenute nell'anagrafica azienda. I dati dell'anagrafica azienda sono quei dati che andranno a comporre il nostro frontespizio. Cosa ci va nell'anagrafica azienda? Chiaramente dei dati che sicuramente nelle vostre aziende sono già presenti. Io lo sottolineo perché questi dati sono comunque fondamentali ed importanti. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alla ragione sociale, al cognome e al nome dell'azienda, se eventualmente parliamo di una persona fisica, all'indirizzo, al codice fiscale e alla partita IVA. Se inoltre l'azienda in oggetto che trasmette i dati è una società, devono essere presenti anche i dati del legale rappresentante. In particolare deve essere indicato anche il codice carica. Questi dati andranno quindi a comporre il nostro frontespizio. Poi, che cosa è fondamentale per la predisposizione della comunicazione? Che le anagrafiche dei clienti fornitori siano corrette. In particolare mi riferisco a questi dati che sono i dati minimi che devono essere corretti contenuti dentro le anagrafiche. Nome, cognome o denominazione, codice fiscale o partita IVA, residenza fiscale e paese. Vi faccio vedere qui, dove ho messo queste due immagini, quali sono le sezioni delle anagrafiche clienti fornitori che contengono queste informazioni che devono essere corrette e quindi devono essere da voi controllate. Vedete, nel primo caso abbiamo una persona fisica no, quindi ho una società, la denominazione è la ragione sociale. Nel secondo caso ho una persona fisica sì, quindi i dati sono cognome e nome, per cui queste due anagrafiche comunque vanno verificate. Ora, abbiamo detto la prima voce di menu che compone la comunicazione dati fatture emesse e ricevute è l'elaborazione prima nota. Cosa fa l'elaborazione prima nota? L'elaborazione prima nota legge tutti i documenti di tipo IVA che contengono un cliente o un fornitore che ha un codice fiscale, una partita IVA corretto e che non sono stati esclusi con quel parametro che vi dicevo precedentemente, che ci permette di escludere il documento dalla comunicazione. In particolare, quali sono le causali che ci interessano? Abbiamo detto, l'ha già ripetuto Andrea, la comunicazione è relativa ai documenti IVA, le fatture. Le causali che rientrano nell'elaborazione sono queste, sono la fattura emessa, la fattura ricevuta, la fattura IVA esigibilità differita, la fattura corrispettivo, in particolare qui devo avere il cliente sulla prima riga, e i documenti che sono annotati nell'archivio annotazione di fatture emesse a fronte di scontrini, quello che si gestisce dall'emissione corrispettivi mensili, le note di credito emesse, ricevute, e le note IVA esigibilità differita. Quindi vi dicevo, l'elaborazione prima nota, che cosa va a compilare nel programma? Ci riporta in automatico, nel menu anagrafiche clienti, fornitori e azienda, i dati dei clienti, fornitori e azienda che compongono il nostro file. Questi dati sono in visualizzazione perché realmente sono quelli che troviamo nella rubrica clienti, fornitori. Inoltre va a inserire nell'immissione e revisione tutti gli elementi che sono importanti, fondamentali, per creare e costruire il nostro file, quindi per inviare i dati all'agenzia delle entrate. Qui sulla destra ho riportato l'immagine relativa alla funzione di elaborazione prima nota. Nel 2017, ovviamente, essendo semestrale la periodicità, dovremo andare ad indicare il semestre. possiamo eventualmente decidere di stampare o meno un brogliaccio e eventualmente possiamo fare un'elaborazione di prova che non andrà a scrivere nulla negli archivi supradetti. Veniamo ad alcune considerazioni relative alla funzione di elaborazione prima nota. Le istruzioni, quindi la normativa, obbliga a comunicare e a distinguere i dati delle fatture intra per quanto riguarda acquisti di beni distintamente dai servizi. Quindi, come fa il programma a discriminare quali sono acquisti intra di beni e quali sono acquisti intra di servizi? Allora, leggi innanzitutto il fornitore che deve avere una residenza fiscale CE, quindi veniamo a quelle codifiche sull'anagrafica clienti-fornitori che, vi dicevo, devono essere fatte correttamente. L'operazione deve essere fatta in doppio protocollo. Inoltre, per discriminare se è un acquisto di servizi o un acquisto di beni, andiamo a leggere i mastri che sono contenuti in questa tabella che poi dopo vi vado a far vedere. Cioè, se nella registrazione contabile io ho un conto che appartiene ad uno dei mastri indicati in questa tabella, la mia operazione, che ha chiaramente questi due presupposti, è un acquisto intra di servizi, altrimenti è un acquisto intra di beni. Un'altra particolarità è relativa al documento fattura corrispettivo RF. Qui, come nello spesometro, quindi come per la comunicazione che avete fatto per i documenti al 31-12-2016, dovete avere il cliente in prima riga, pena esclusione dell'operazione. Bolle doganali, vi ha già anticipato qualcosa Andrea relativamente a questo. Allora, per il 2017, il fornitore bolla doganale che avete codificato nella rubrica seguendo le nostre istruzioni, quindi con partita IVA di 19-0 finale, è corretto. Siamo noi a tradurre queste informazioni così come le istruzioni ci richiedono. Dal 2018, invece, ci sarà l'obbligo di comunicare il dato relativo al cedente prestatore, per cui saremo noi ad introdurre un nuovo parametro o un nuovo campo comunque all'interno del programma per poter fornire questa informazione. Documenti riepilogativi, fatture di acquisto-vendita. Questi documenti devono essere trasmessi singolarmente, quindi occorre registrare in prima nota i singoli documenti. Anche qui, già Andrea ve l'ha specificato anticipandovelo. Noi già da inizio 2017 vi abbiamo informato di questa cosa suggerendovi di non utilizzare più l'impostazione documento riepilogativo nell'anagrafica cliento-fornitore perché altrimenti l'inserimento di queste operazioni nella comunicazione dati-fattura risulta totalmente manuale. La scheda carburante, dati non richiesti ai fini della dati-fattura. Qui la famosa circolare numero 1 del 2017 ha appunto fornito questo chiarimento che la scheda carburante non deve più essere comunicata. Bene, entriamo nel merito dell'anagrafica clienti-fornitori-azienda. Abbiamo detto ipoteticamente ci troviamo sul programma facciamo un'elaborazione di prima nota. Questa elaborazione va a scrivere nell'anagrafica clienti-fornitori-azienda tutti i nostri dati che sono necessari alla predisposizione della comunicazione relative a questi tre soggetti. Che cosa dobbiamo fare quindi in questa anagrafica? Nelle istruzioni è stato dichiaratamente specificato che se il documento-fattura contiene le informazioni relative alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale per i soggetti non residenti queste informazioni se sono indicate vanno comunicate. Pertanto al fine di comunicare queste informazioni dovete integrare manualmente i dati richiesti per la stabile e per il rappresentante fiscale all'interno di questa voce di menu. Cioè entrate qui dentro vi recate sul soggetto che ha ad esempio l'informazione del rappresentante fiscale e andate ad inserire i dati relativi al suo codice fiscale e eventualmente alla sua denominazione. In questo menu sono anche presenti i dati dell'anagrafica azienda quelli che praticamente risiedono all'interno della nostra anagrafica quindi le informazioni che andranno a comporre il frontespizio. Eventualmente queste informazioni possono anche essere reimportate. Cosa succede? Faccio una breve parentesi. ci potremmo trovare in caso di avere un'azienda di livello nullo. Ipoteticamente l'azienda di livello nullo ci può servire per inviare i dati di un soggetto per il quale noi non teniamo la contabilità. Quindi in questo caso l'azienda di livello nullo sicuramente lo sapete non ha la rubrica clienti fornitori non ha la prima nota quindi se io voglio mandare la comunicazione io devo venire dentro questa voce di menu ad inserire manualmente le anagrafiche dei soggetti per cui io devo trasmettere i dati. altrimenti chiaramente questo archivio non si popola non c'è neppure l'elaborazione prima nota. Poi vediamo invece qui l'immissione e revisione. Abbiamo detto lanciamo l'elaborazione facciamo il nostro controllo ed entrando in emissione e revisione ci troviamo tutto l'elenco dati che il programma ha elaborato. Vediamo qui nell'immagine indicati i dati che sono presenti nella lista dei documenti. la data di registrazione e la data di competenza il tipo documento vedete fattura ricevuta nota di credito ricevuta acquisto intrabeni acquisto intraservizi il numero del documento la data il codice del cliente fornitore e la ragione sociale o denominazione. Nelle ultime tre colonne ci saranno poi i dati relativi al pacchetto sul cui adesso entriamo nel merito e quindi comunque quell'informazione che serve a predisporre il file telematico se per l'operazione abbiamo fatto una rettifica o un annullamento ci sarà qui l'apposita marcatura che lo identifica l'ultima colonna posizione xml ci andrà ad indicare la posizione assoluta nel file xml di quell'operazione quindi questi dati li avremo solo quando abbiamo predisposto o comunque fatto già l'invio. Quindi cosa ci serve questa finestra? Ci serve innanzitutto per fare l'inserimento o eventualmente revisionare i documenti poi da qui possiamo anche rettificare o annullare un documento e qui apro una parentesi le istruzioni e quindi la normativa prevede che sia possibile una volta fatto l'invio chiaramente andare a rettificare un dato trasmesso erroneamente ad esempio supponiamo che su quel dato c'era un'aliquota all'8 e io invece l'aliquota la devo avere al 10 quindi io lo devo andare a rettificare perché le informazioni che ho inviato non sono corrette la rettifica e l'annullamento eventualmente l'esempio può essere invio a un dato che non deve essere comunicato sono da fare in modalità singola cioè se io faccio un invio di 100 documenti e ho 5 dati da rettificare devo fare 5 rettifiche stessa cosa se ho 5 documenti da annullare devo fare 5 annullamenti questo è quanto è stato indicato nelle istruzioni fornite dall'agenzia altrimenti posso fare l'annullamento complessivo cioè ho inviato un pacchetto per gli acquisti un file per gli acquisti annullo tutto il file poi dopo lo vediamo direttamente quindi la rettifica e l'annullamento singolo si gestiscono da immissione revisione quindi da questo elenco dati con questi pulsanti mi devo posizionare sul documento da rettificare o sul documento da annullare premo il pulsante il programma mi crea una riga aggiuntiva dove ho la possibilità di rettificare quel documento e successivamente relativamente alla rettifica singola e all'annullamento singolo che appunto siccome sono singoli da istruzioni noi andiamo già a crearvi il pacchetto per predisporre la comunicazione da questa voce di menu cosa possiamo fare poi possiamo anche fare una serie di variazioni a blocchi è presente un pulsante che ci permette di selezionare i nostri documenti li marchiamo quindi e poi con il pulsante azione sui documenti sui marcati andiamo a fare una variazione a blocchi di questi documenti selezionati possiamo inoltre anche fare un filtro o inserire un nuovo documento manualmente ora all'interno dell'emissione a revisione quindi qui se noi entriamo direttamente nel movimento vediamo tutti quei dati che sono necessari per predisporre la comunicazione tra questi dati c'è il tipo documento il tipo documento è un'informazione obbligatoria che dobbiamo inserire nelle nostre operazioni da comunicare il programma di elaborazione imposta già in automatico il tipo documento relativamente a queste operazioni fattura emessa ricevuta e esigibilità differita fattura corrispettivo e annotazione di fattura emessa a fronte di scontrini dal programma vengono già marcati con tipologia TD01 ovvero la sua tipologia corretta note di credito emesse ricevute e esigibilità differita e note di credito intra vengono già impostate con tipo documento TD04 salto agli ultimi due e poi dopo torno sui tre centrali che sono quelli relativi ai documenti intra intra di beni TD10 intra di servizi TD11 questi tipi documento vengono impostati in automatico dalla funzione di elaborazione in base a quelle istruzioni che vi ho dato prima quando parlavamo dell'elaborazione prima nota invece parliamo di questi tre documenti la nota di debito che tecnicamente risulta essere una fattura noi la impostiamo in automatico con la procedura con il codice TD01 che non è sbagliato questo tipo documento però se l'utente è corretto se lo lasciate così e inviate il file non avete alcun problema però se l'utente vuole modificare la nota di debito con la tipologia TD05 può farlo entrando manualmente in quell'operazione e andando a farsi la modifica manuale a gestione completamente manuale invece sono la fattura semplificata che ha il codice TD07 e la nota di credito semplificata TD08 quindi queste le dovete gestire manualmente mentre la nota di debito la potete lasciare anche con TD01 se volete manualmente modificate a TD05 quindi queste informazioni sono riportate nella nostra gestione veniamo ora prima di passare al programma alla funzione di creazione e gestione pacchetti dati da trasmettere allora per convenzione abbiamo chiamato pacchetto un insieme di documenti di acquisto o di documenti di vendita vi ho già accennato inizialmente quando parlavamo della predisposizione del file che è un file xml che la normativa ci obbliga a inviare un file di acquisto e un file di vendita oltre a questa imposizione diciamo che comunque è predisposta dalla normativa ci sono anche dei limiti strutturali che vanno rispettati e quali sono allora un primo limite è dimensionale il file non può superare i 5 mega un altro un limite strutturale invece che vale sia sulle operazioni di acquisto che sulle operazioni di vendita è che ad esempio se parliamo delle vendite il file non può contenere più di mille cessionari diversi o non può contenere più di mille fatture per lo stesso cessionario per cui se voi vi trovate in un semestre e strutturalmente questi limiti li superate parliamo di semestre quest'anno l'anno prossimo sarà un trimestre chiaramente non potete fare un unico file di vendita ma ne dovete fare più di uno questa funzione di predisposizione del pacchetto fa proprio questo lavoro cioè va qua nell'emissione revisione a leggere tutti i vostri documenti tutti i vostri dati e in base alle informazioni quindi in base diciamo a quello che sono i dati che voi dovete comunicare predispone in automatico i pacchetti necessari a fare l'invio tenendo conto di questi limiti strutturali diciamo imposti dalla normativa quindi la predisposizione del pacchetto è proprio per questo un'attività propedeutica alla creazione del file vi dicevo che quindi bisogna fare almeno un file per gli acquisti e uno per le vendite poi la gestione della rettifica può essere singola e anche l'annullamento anzi scusate la rettifica deve essere singola e l'annullamento deve essere singolo e quando praticamente da immissione revisione premiamo il pulsante rettifica documento o annulla documento per fare quella determinata operazione automaticamente siccome questa predisposizione è solamente singola da istruzioni già noi qua vi creiamo il pacchetto predisposto per quella rettifica e per quell'annullamento diverso è il caso dell'annullamento complessivo vi dicevo vi potreste trovare nella situazione di dover annullare totalmente il file che avete inviato in questo caso vi posizionate sul pacchetto che volete annullare ad esempio se guardiamo la prima riga ci posizioniamo sul pacchetto degli acquisti premete il pulsante annulla e il programma crea la riga relativa al pacchetto del suo annullamento altre informazioni che vediamo in questo elenco pacchetti sono chiaramente il periodo e il progressivo per il 2017 abbiamo detto semestre il periodo 1 il progressivo se abbiamo più pacchetti di acquisti chiaramente avremo 1 2 eccetera e il tipo operazione acquisti o vendite se il pacchetto è definitivo il tipo di invio se è ordinario di rettifica o di annullamento lo stato dell'invio l'esito dell'invio l'id che viene restituito dal sistema ricevente e le informazioni relative all'annullamento qui dentro noi possiamo fare anche altre operazioni cioè l'operazione di controllo quindi utilizzare il programma di controllo strutturale del file e stampare anche la ricevuta oppure possiamo anche cancellare il nostro pacchetto quindi possiamo fare tutta una serie di azioni ora entro in quest'ultima slide per ricordarvi quali sono le possibilità di notifica di lettura della notifica dell'esito e poi passiamo al programma per vedere quello che vi ho finora spiegato allora se utilizzate il nostro canale passepartout è molto semplice effettuare la verifica dell'esito basta utilizzare il pulsante acquisisci ricevute attivo nel cruscotto telematico e noi così possiamo scaricare la nostra ricevuta se invece utilizzate il portale web fatture corrispettivi potete verificare l'esito dell'invio accedendo all'area consultazione oppure consultando il cassetto fiscale del contribuente bene allora a questo punto posso andare sul programma perché ho tutta una serie di cose da farvi vedere in maniera tale che quello che finora vi ho spiegato sulle slide possa essere per voi più chiaro allora qui siamo in un'azienda chiaramente io ho già tutto predisposto al fine di poter fare la comunicazione dati fattura parto innanzitutto dal mostrarvi quello che sono le tabelle che abbiamo visto prima sulle slide allora andiamo in anagrafica azienda e prima vediamo il parametro attività IVA che vi ho detto essere attivo dall'anno 2017 escludi da comunicazione dati fattura se lo impostiamo a sì in sede di multi elaborazione questa azienda viene esclusa banale diciamo questa cosa ma la vediamo così magari vi rimane più impresso allora adesso invece passiamo alle informazioni relative al fornitore telematico abbiamo detto i soggetti che hanno già fatto con noi l'invio della comunicazione liquidazione periodica IVA questi dati li hanno già impostati altrimenti chiaramente bisogna impostarli perché diversamente non abbiamo la possibilità di creare il telematico allora caso 1 tipo fornitore 10 il commercialista che invia i dati per i propri clienti sulla pagina 3 io devo andare ad identificare e a dire al programma com'è la mia trasmissione è in autonomia o è con passpartout come firmo se firmo con i certificati entrate o se ho una firma qualificata in questo caso io già qui vedo che la mia delega è stata accettata perché io che cosa ho fatto ho indicato al programma che la trasmissione avveniva con passpartout quindi ho accettato il servizio confermando la delega che adesso diciamo non vi faccio vedere ma comunque banalmente confermando questi dati la prima volta con ok vi compare e va semplicemente confermata la finestra qui a destra cosa vedo i progressivi dei precedenti invii che io ho fatto questa installazione è un'installazione che lavora ed invia sul nostro ambiente di test che replica chiaramente l'ambiente che avete voi reale e quindi io qui ho i miei progressivi relativi agli invii che ho fatto quindi questo era il caso del tipo fornitore 10 commercialista caso 2 azienda contribuente che invia i propri dati in questo caso devo avere un tipo fornitore 1 oltre ad avere il tipo fornitore 1 io devo andare qua in anagrafica azienda premere il pulsante fatture xml e andare qui nei parametri sistema ricevente a dire al programma come faccio la mia trasmissione se con passpartout o in autonomia e come firmo quindi questo è il caso del contribuente ripeto ancora che questi dati se avete fatto l'invio con noi per la liquidazione periodica già li avete impostati quindi non dovete teoricamente fare nulla poi passiamo alle tabelle abbiamo detto chi non si avvale del raggruppamento 8081 deve venire nella tabella delle esenzioni IVA adesso io entro qui in un nostro codice ad impostare la natura operazione fatture xml pena non creazione del telematico perché questo dato è un dato obbligatorio per cui chi non si avvale del raggruppamento deve venire a fare questa impostazione tutti gli altri come sempre per i nostri raggruppamenti hanno già tutto aggiornato e impostato da noi quindi non devono fare nulla esempio di azienda che invece gestisce anche i beni usati la natura va messa anche qua entro ad esempio in questo codice il campo natura lo trovo sotto la colonna PA e qui devo andare a mettere la natura sempre e solo se non mi avvalgo del raggruppamento la stessa cosa dovrei fare nella tabella codice IVA articolo 74ter che adesso qui non ho perché questa azienda non è un'agenzia di viaggio in quel caso dovrei entrare nella tabella e andare anche lì a compilare la natura bene poi vado velocemente in revisione prima nota perché vi voglio far vedere un'altra cosa così vi faccio vedere tutti i parametri che ho accennato prima qui vedete tutta una serie di operazioni entro in una fattura se ipoteticamente io voglio escludere questo documento dalla comunicazione mi posiziono sul campo importo premo segnalazioni varie e qui ho il campo escludi documento da elaborazione comunicazione dati fattura che dovrò impostare a sì ovviamente altro caso abbiamo detto i corrispettivi non si trasmettono però le annotazioni di fatture emesse a fronte di scontrini a un archivio che viene elaborato qua dentro io posso escludere il documento mettendo a sì il dato su questa colonna ok bene adesso entriamo proprio nel merito della nostra comunicazione quindi vado nel mio menu stampe fiscali deleghe comunicazioni dati fattura e per completare il giro sulle tabelle parto dalla fine tabelle abbiamo detto le istruzioni cosa ci dicono ci dicono che dobbiamo distinguere le operazioni intra di beni da quelle di servizi quindi affinché siamo in grado di identificare un intra di servizi td11 come tipo documento l'operazione deve avere il fornitore con residenza fiscale c deve essere in doppio protocollo e il conto deve appartenere ad uno di questi mastri per essere intra servizi se invece è intra beni è alternativamente ad un mastro che non c'è qua dentro chiaramente e diventerà td10 se io ho dei mastri creati ad hoc per gli intra servizi posso personalizzare questa tabella come tutte le nostre tabelle di raggruppamento ovviamente lo dico anche qui questa tabella è compilata da noi se vi avvalete del raggruppamento quindi sicuramente quasi tutti altrimenti è una tabella che ha una gestione manuale allora elaborazione prima nota mi trovo all'interno della finestra di elaborazione devo predisporre la mia comunicazione per l'anno 2017 abbiamo i semestri quest'anno quindi scriviamo semestre 1 lasciamo stampa brogliaccio sì elaborazione di prova no facciamo direttamente un'elaborazione definitiva e confermiamo il messaggio del programma ci dice attenzione l'elaborazione cancella i dati delle operazioni presenti nell'archivio del periodo selezionato confermi elaborazione ovviamente rispondiamo di sì e stampiamo allora vediamo le due stampe la prima qui abbiamo la stampa del brogliaccio che cosa contiene questo brogliaccio contiene esattamente le informazioni che vedete entrando in emissione e revisione quindi nella gestione i documenti elaborati hanno i dati che sono quelli qui presenti c'è la data di registrazione di competenza c'è la causale c'è il numero del documento la data il codice conto la descrizione del conto il tipo documento quella tabella che abbiamo visto prima TD01 sono le fatture ad esempio TD10 sono gli acquisti intra di beni TD11 acquisto intra di servizi poi abbiamo la colonna che ci riporta le nostre aliquote la colonna che ci riporta il valore imponibile l'imposta la natura e l'esigibilità split payment differita o immediata ritorno sul programma e qui teoricamente potrei fare un'altra stampa adesso lo leggiamo qui dalla visualizzazione dei problemi rilevati questa messaggistica differita cosa ci porta ci porta praticamente una serie di problemi che vengono rilevati in sede di elaborazione li andiamo a leggere il primo carta carburante soggetto tipo documento riepilogativo non ammesso registrazioni scartate abbiamo detto prima non si possono ottenere delle anagrafiche con documento riepilogativo pena la mancata inclusione in automatico dentro la comunicazione dati fattura però qui abbiamo un soggetto che è la carta carburante che abbiamo detto per il 2017 non va comunicato probabilmente anche in futuro quindi a questo punto non essendo da comunicare il messaggio lo possiamo tranquillamente ignorare il secondo soggetto il secondo soggetto è una fondazione qui abbiamo un fornitore non privato marcato come senza partita IVA non ammesso registrazioni scartate quindi questo è solo un messaggio che ci fa riflettere su come abbiamo registrato quell'operazione un fornitore non privato teoricamente non può fare una fattura per cui presumibilmente manca il requisito soggettivo per cui presumibilmente qui è stata registrata una fattura quando non si doveva quindi comunque questo dato non va comunicato e la registrazione viene scartata quindi ad esempio queste potrebbero essere delle tipologie di messaggi che voi vi trovate a dover leggere che però in entrambi i casi io posso tranquillamente ignorare quindi chiudo la mia elaborazione ed entro nel menu di anagrafiche clienti fornitori azienda allora cosa abbiamo qua dentro vi dicevo facendo l'elaborazione viene automaticamente compilato questo menu io qui ho tutti i miei dati che sono presenti nella rubrica clienti fornitori entro ad esempio in questo soggetto e vedete che qui ho proprio anche la decodifica del suo codice conto questi dati sono solo in visualizzazione perché vengono visualizzati richiamando proprio questo codice quindi sono proprio letti da qua dalla rubrica clienti fornitori quando è che io mi devo preoccupare di andare qui dentro ad inserire ulteriori informazioni quando come vi dicevo precedentemente mi trovo in una situazione in cui il documento che io devo comunicare riporta l'informazione della stabile organizzazione per i non residenti e del rappresentante fiscale o del rappresentante fiscale in questi casi io devo inserire queste informazioni perché le istruzioni quindi la normativa ci richiedono se presenti questi dati di comunicarli quindi io li devo integrare operando proprio da questa voce di menu ora annullo e vi faccio vedere che io da qui dentro posso anche visualizzare i dati azienda con questo pulsante i dati azienda sono quelli dell'anagrafica azienda che comporranno il mio frontespizio in questo caso io ho anche il codice fiscale e il codice carica del legale rappresentante perché questa è una società posso anche reimportare questi dati con import dati dal frontespizio pulsante che vedo a destra se fossi invece così per completezza ve lo ripeto in un'azienda nulla dovrei premere nuovo soggetto e andare non avendo la rubrica clienti fornitori ad inserire i dati anagrafici del soggetto cliente fornitore per cui devo inviare la comunicazione per cui i suoi dati sono da comunicare ora entriamo in emissione e revisione dall'immissione e revisione cosa vedo vedo tutto l'elenco dei dati che andranno a comporre la mia comunicazione che sono frutto dell'elaborazione allora vi dicevo già prima qui c'è poco da aggiungere relativamente alle intestazioni delle colonne che mi riportano appunto la data di registrazione o di competenza il tipo documento il numero eccetera quelli che abbiamo già visto entriamo però adesso ad esempio all'interno della prima operazione perché vi voglio far vedere quali sono le informazioni che riportiamo in automatico qua dentro allora una serie di dati sono in sola visualizzazione questo perché al momento non sono presenti cioè alcuni dati qui non li vedete perché al momento non sono presenti gli altri dati comunque sono in visualizzazione qua di testata e sono l'inclusione nel pacchetto che adesso non c'è quindi non è riportato la posizione assoluta nel file xml la provenienza che siccome in questo caso viene dall'elaborazione prima nota il movimento questa è la dicitura che riporta e il tipo movimento che sarà compilato nel caso di rettifica o annullamento poi abbiamo tipo operazione vendita il tipo documento che abbiamo detto prima fattura viene impostato in automatico dalla procedura e poi abbiamo tutte le altre informazioni come il numero il codice del cliente fornitore e poi qua le informazioni relative al corpo qui ve l'ha già detto Andrea ma lo ripeto allora chiaramente adesso non c'è la natura perché qui abbiamo una fattura in split payment nel caso infatti vedete la colonna esigibilità IVA che riporta proprio la dicitura split payment in questo caso nel caso in cui l'utente voglia comunicare c'è la possibilità ma sono dati opzionali di indicare la percentuale di detraibilità del costo ai fini redditi e se quel costo è deducibile sì o no sempre ai fini redditi dati chiaramente opzionali che quindi noi non mettiamo in automatico la finestra rende la possibilità all'utente di non sovrascrivere dall'elaborazione prima nota questo movimento oppure di non trasmettere questo movimento adesso io esco qui eventualmente potrei eliminarlo più o meno vi ho detto tutte le cose rilevanti sull'inserimento di un dato allora una volta che io mi trovo qui in questo caso non entro nel merito delle operazioni già elaborate che come potete vedere riportano già tutte le informazioni che sono necessarie io da questa finestra di elenco dati potrei fare ad esempio un filtro premo il filtro qua vado a selezionare quello che voglio filtrare sono banali le interpretazioni di questi campi non ci entro nel merito ed eventualmente premendo ok vedo solo i documenti di un periodo di un cliente o quello che mi interessa faccio annulla e posso fare la rettifica del documento singolo l'annullamento del documento singolo che poi vi faccio vedere solo dopo perché adesso chiaramente non ho inviato non posso né rettificare né annullare oppure cosa posso fare posso selezionare una serie di operazioni e fare una variazione a blocchi con il pulsante medifica documento azione sui marcati le variazioni a blocchi sono possibili su questi campi elimina documento se no imposta i documenti selezionati come da non sovrascrivere da non sovrascrivere da elaborazione prima nota imposta i selezionati come documento da non trasmettere quindi questi documenti marcati se io vado a completare queste selezioni mi vengono impostati così come indicato adesso non faccio nulla ed esco da qui posso anche selezionare tutto naturalmente con questo parametro posso eliminare un documento e posso anche inserire un nuovo documento manualmente dalla gestione se premo nuovo documento che cosa succede la procedura mi dà un messaggio che adesso leggiamo insieme in questo caso lo premetto io il livello di gestione dell'azienda corrente consente la completa tenuta della contabilità perché questa non è un'azienda di livello nullo è un'azienda dove ho la prima nota per inserire nuovi documenti nella comunicazione si suggerisce di registrarli direttamente in prima nota ed eseguire successivamente la funzione di elaborazione qui viene richiesto di proseguire con l'inserimento manuale dei documenti e di rispondere con queste azioni sì o no sì e non mostrare più il messaggio quindi in questo caso se io qua rispondo di sì io posso andare ad inserire manualmente un'operazione che ovviamente mi rimane direttamente solo in emissione e revisione non ce l'ho anche in prima nota e vedete è già stato predisposta la marcatura come non sovrascrivere da elaborazione questo a titolo esemplificativo per chi volesse inserire un documento solo da qui o per chi magari usa un'azienda nulla e quindi per forza deve inserire il movimento manualmente adesso usciamo ora passiamo alla stampa del brogliaccio vediamo i menu diciamo nell'ordine allora qui abbiamo la scelta di un modulo di stampa che è poi eventualmente personalizzabile il periodo adesso mettiamo periodo 1 e poi adesso non entro nel merito dei campi che vedete sotto che ci permettono di filtrare il brogliaccio solamente riportando ad esempio un cliente un fornitore i dati di un pacchetto e confermo con ok così ho proprio la stampa del brogliaccio completa cosa riporta la mia stampa del brogliaccio sostanzialmente io qui vedo le stesse informazioni che abbiamo visto nell'elenco dati dell'immissione revisione quindi tutti quei dati che erano prima nella nostra gestione chiaramente adesso una serie di dati non sono presenti perché non ci sono neanche in immissione revisione non ho la posizione xml non l'ho fatto ancora il file per cui queste informazioni non le vedo però eventualmente se l'utente vuole fare un controllo può farsi questa stampa e andare a verificare le sue informazioni la abbassiamo ora entriamo nella creazione e gestione dei pacchetti perché ci accingiamo a fare un invio telematico allora siamo nella nostra finestra adesso qui non ho nessun pacchetto vado a fare nuovo e qui ho una serie di parametri che mi permettono di creare il pacchetto con determinate caratteristiche ipotizziamo di fare il pacchetto per il semestre 1 abbiamo detto file di acquisto e file di vendita di aggiunti quindi qui lasciamo acquisto per questo esempio mettiamo tipo invio ordinario e facciamo ok alla conferma la procedura mi crea il pacchetto mi spiega già quali sono i riferimenti di questo pacchetto progressivo 1 semestre 1 e se ci entriamo dentro possiamo visualizzare le informazioni che il pacchetto contiene al momento allora qui abbiamo l'impostazione dati definitivi adesso c'è no però è obbligatorio mettere sì se dobbiamo creare il telematico quindi io già mi porto avanti e metto sì poi gli altri dati sono dati di visualizzazione qui ci sono i dati del dichiarante i famosi dati della anagrafica azienda perché questa è una società nella sezione dati fornitore telematico io adesso vado a mettere il mio fornitore 1 anche questo dato obbligatorio per creare il telematico data di impegno mettiamo la data di oggi e poi qui abbiamo la sezione che riporterà successivamente al nostro invio i dati relativi all'invio e alla ricezione del file su queste informazioni ci entro dopo così poi le commentiamo insieme se vado sulla pagina 2 io qui ho i dati del frontespizio i soliti dati dell'anagrafica che abbiamo già visto più volte allora confermo e quindi sono pronta diciamo così a fare il mio telematico ora ve lo accennavo già prima lo vado proprio a lanciare io a destra qui posso fare il controllo premio controlli e la procedura mi fa quel controllo strutturale che dicevamo prima di conformità strutturale del file al tracciato xml che ci è stato fornito dalle istruzioni il nostro telematico è valido quindi praticamente posso provare a fare l'invio qui che cosa ho un messaggio che mi dice vuoi visualizzare il contenuto del file telematico rispondo di sì perché vi voglio andare a dare alcune informazioni faccio una stampa a video e vi faccio vedere che questo qua è proprio il contenuto del mio telematico questo è un telematico di acquisto quindi il blocco che compone è il dtr e io ho qua dentro delle informazioni che possono esservi molto d'aiuto nel momento in cui vi trovate ad una mancata validazione o ad uno scarto in seguito all'invio da parte dell'agenzia vengono rilasciati nei messaggi delle indicazioni che vi permettono di individuare qual è il soggetto o qual è il documento che presenta problemi e che quindi va revisionato va modificato queste informazioni fanno riferimento al numero del cidente prestatore in questo caso è perché siamo nel blocco dtr altrimenti qui avrei l'intestazione di colonna cessionario oppure alla posizione assoluta di quell'operazione all'interno del tracciato la posizione assoluta è la stessa posizione xml che noi abbiamo visto prima essere presenti in immissione e revisione quindi questi dati sono quelli che mi possono aiutare ad andare ad individuare qual è l'operazione da sistemare o il soggetto che non va bene poi dopo ci torniamo ora faccio qua chiudi chiudo il messaggio e a questo punto io ho tutto pronto per poter andare a fare il mio telematico visto che siamo andati in fila continuo a farlo e faccio una stampa dell'impegno alla trasmissione questa stampa che cosa mi fa sostanzialmente mi produce la solita letterina dove il soggetto si impegna a trasmettere i dati per conto di praticamente io adesso qua non vado a delencarvi tutti i campi che sono veramente banali vado solamente ad indicare queste informazioni al fine di fare la stampa e mi soffermo un istante qui mettiamoci anche il fornitore mi soffermo un istante sull'ultimo campo marca pacchetti dati come definitivi perché questo campo è importante nel caso in cui voi non abbiate già marcato definitivo il pacchetto cosa che io ho già fatto ma dobbiate andare a farlo perché vi accingete a creare il telematico vi ho detto già prima che deve essere per forza definitivo per fare la creazione del file quindi potete marcare da questa funzione i pacchetti selezionati a definitivo lo potete fare anche da std per agevolare il lavoro ad esempio nello studio confermo con ok faccio la mia stampa e questa stampa è la solita non c'è niente di più da dire dove ci sono riportate le informazioni relative all'adempimento per cui ci impegniamo a trasmettere veniamo a noi invio telematico allora numero intermediario periodo qui abbiamo il nostro semestre confermiamo con ok e ora qui diciamo che non cambia niente rispetto agli altri telematici finora andiamo a dire qual è il numero della nostra trasmissione la data di emissione mettiamo la data di oggi il tipo di invio dobbiamo specificare se è ordinario di annullamento o di retifica adesso il mio è un ordinario quindi lasciamo la O poi se è di acquisto o di vendita e a questo punto andiamo a confermare ora cosa facciamo premiamo la nostra scelta delle pratiche e in questo momento io adesso vedo solo la pratica di questa azienda è ovvio che io questa cosa la posso fare anche da std e qui posso andare a marcare tutte le pratiche che io voglio includere in questo invio in questo caso io seleziono la mia vado a confermare e vedete messaggi creazione telematico il telematico è stato generato facciamo chiudi io adesso sono pronta posso inviare vi ho anticipato prima che posso fare una prova da questa installazione nel nostro ambiente di test quindi vado direttamente a premere invio al sistema ricevente qui a destra che voi vi trovate una volta che avete fatto tutte le vostre configurazioni che dicevamo prima confermi invio rispondiamo di sì confermiamo con ok e il programma adesso cosa sta facendo sta facendo la firma il controllo di nuovo quello che abbiamo fatto prima e il nostro invio fatto l'invio abbiamo il nostro messaggio il programma firma dati fatture ok periodo 1 invio dati fatture effettuato in data eccetera documento in elaborazione chiudo il messaggio e a questo punto per modificare lo stato che attualmente risulta essere in elaborazione devo acquisire la ricevuta vi ho detto prima io sono in una situazione in cui ho tutto dentro al gestionale perché attraverso passpartù io posso fare sia il controllo che l'invio che comunque lo scarico della ricevuta direttamente premendo un pulsante quindi adesso premo acquisire ricevute e vado a fare lo scarico vedete il mio documento risulta validato quindi cosa significa che è stato accettato lo stato qui diventa accettato e se io visualizzo la ricevuta vediamo proprio il contenuto questa informazione viene fornita dal sistema di interscambio sistema ricevente mi dice le informazioni relative al mio invio effettuato il mio identificativo codice e che il file è stato accettato adesso che cosa succede vado un attimo a retroso per mostrarvi quello che prima non era attivo ovviamente perché non avevo fatto l'invio se torno nella creazione del pacchetto io qua dentro tutte le informazioni relative all'invio effettuato vedete invio accettato id file sr come ricevuta posso visualizzare la ricevuta che abbiamo appena visto se entro qua dentro adesso sono stati compilati in automatico dalla procedura tutti i dati relativi all'invio e alla ricezione del file vedete che lo stato è inviato alternativamente se io ad esempio invece di inviare direttamente col programma copio il file e poi lo invio diversamente qui avrei stato invio copiato e poi ho il protocollo del sistema ricevente e l'esito invio accettato quindi io qua sono a posto ho concluso la mia operazione ora se ritorno nell'immissione revisione adesso che cosa mi trovo mi trovo che se vado dentro un'operazione per esempio questa il programma mi dice guarda che il documento è incluso nel pacchetto risulta marcato come definitivo e viene aperto in sola visualizzazione qua sopra quei dati in visualizzazione che prima erano vuoti ora sono completi ho l'inclusione nel pacchetto e ho la posizione xml non ho il tipo movimento perché questo non è né una rettifica né un annullamento bene quindi facciamo proprio un esempio ipotesi ho sbagliato un dato che c'è dentro questa operazione lo voglio rettificare come faccio abbiamo detto la rettifica avviene obbligatoriamente per singolo documento e anche l'annullamento viene fatto per singolo documento quindi premo rettifica documento l'operazione creerà un movimento di rettifica del documento proseguire sì qua dentro io praticamente mi trovo tutti i dati che prima componevano l'operazione supponiamo che ho sbagliato l'iva ci metto 10 la modifico quindi l'imposta mi si ricalcola metto la mia esigibilità immediata e confermo la mia operazione vedete io qui ho creato un movimento di rettifica siccome la normativa ci obbliga ad inviare la rettifica singolarmente io dentro il pacchetto se ci vado ce l'ho già il mio pacchetto da trasmettere relativo alla mia rettifica vedete quindi basterebbe che io entrassi qui mettessi il pacchetto a definitivo e andassi nel telematico e facessi l'invio e sarei a posto adesso non facciamo anche questa prova perché tanto è come prima ma facciamo invece una prova simulando uno scarto nell'operazione di vendita so di avere un'operazione con un errore quindi vado a creare il pacchetto per le vendite mettiamo vendite invio ordinario facciamo ok adesso entriamo nella nostra operazione qui andiamo a mettere il pacchetto a definitivo l'intermediario e la data di impegno e confermiamo con ok vado a controllare il mio pacchetto con la funzione di controllo risulta il file strutturalmente valido ora vado a fare visualizzo il contenuto no vado a fare il mio telematico invio telematico periodo 1 abbiamo detto il primo semestre mi metto su una riga libera faccio scelta mettiamo il numero di trasmissione la data di oggi per la nostra emissione il tipo è ordinario le operazioni sono di acquisto e confermiamo scelgo la mia pratica sono sempre in singola azienda quindi vedo solo lei adesso non ho altri dati da inviare e faccio chiudi ah prima non vi ho detto che sulla colonna tipo trasmissione ho la decodifica della trasmissione che sto facendo la precedente era invio ordinario di acquisti questo invio ordinario di vendite ora cosa faccio completo e faccio l'invio al nostro ambiente di test il programma cosa fa come vi dicevo prima autentica controlla e invia e vedete che il documento è stato inviato e risulta in elaborazione ora devo fare l'acquisizione della ricevuta su questo documento per poter verificare esattamente se l'invio è andato a buon fine facciamo acquisisci ricevute adesso il documento ci risulta in elaborazione significa che in questo momento non abbiamo lo scarico ecco lo scarico è arrivato stampiamo questo messaggio e vediamo che il file è stato scartato adesso lo ingrandisco così lo leggiamo insieme il mio file è stato scartato imposta e aliquota non coerenti per la fattura numero 17 del 2017 0630 cedente prestatore numero 6 posizione body 2 posizione riepilogo 1 posizione assoluta scusate che scorro un po' velocemente numero 11 allora che cosa vuol dire qui adesso è facile perché sappiamo già qual è il documento ma se io mi trovassi nella situazione in cui il documento per qualche ragione può accadere non mi viene indicato ci sono queste ulteriori informazioni che mi permettono di rintracciarlo all'interno dell'xml e sono la posizione del cedente prestatore che è il sesto dentro al mio file la seconda operazione di questo sesto fornitore scusate di questo sesto cliente e la posizione assoluta è la numero 11 questa è la posizione xml che io trovo anche in gestione scusate che adesso scorro un po' velocemente allora vi dico un'altra cosa molto importante che fino qui non vi ho detto che se il file viene scartato viene scartato per intero anche se dentro al file c'è solo un documento che non va bene come in questo caso il file però è scartato tutto quindi lo dobbiamo comunque reinviare quindi ci troviamo nella fase di scarto cosa facciamo adesso qui facciamo chiudi poi vedete il nostro invio ha lo stato scarto possiamo fare questa bella cosa entriamo dentro premiamo contenuto file telematico e facciamo stampa perché io voglio andare a vedere cos'è che c'è in quella posizione assoluta 11 che è sbagliato vedete il cessionario committente la posizione assoluta io vado qua sulla 11 perché mi diceva che era la 11 l'assoluta ed era il 6 il soggetto e vedete che io qua dentro ecco qua adesso non è proprio semplicissimo però io qui ho un'operazione dove c'è l'imposta 00 quindi probabilmente immagino che in prima nota chi ha inserito questa operazione ha azzerato erroneamente l'imposta pertanto questo dato viene scartato dall'agenzia quindi io lo devo rinviare devo rinviare tutto per cui come faccio a rinviare qui facciamo chiudi confermi sì allora devo innanzitutto togliere i parametri di trasmissione se io fossi in un caso di invio da STD io qua dentro mi potrei trovare n aziende magari tutte le altre sono andate a buon fine e io devo solamente inviare questa pratica che mi riporta all'errore quindi vado solo su quella pratica le altre le lascio stare perché il loro invio è verificato ok e avrà l'accettazione e vado a fare modifica parametri di trasmissione devo azzerare tutte le informazioni che sono relative a questo invio per poter ricreare la fornitura con le correzioni apportate confermo con ok e poi ipotizziamo la situazione di operare da STD perché magari è quella che più frequentemente vi capita cioè di avere anche dentro delle pratiche che invece sono andate a buon fine perché io in questo caso potrei tranquillamente fare elimina una volta tolti i parametri di trasmissione e definitivamente eliminare questa trasmissione che comunque è sbagliata ma se per esempio ipotizziamo che dentro ci siano delle pratiche che sono andate io non la posso eliminare devo cambiare lo stato accorpamento quindi devo premere cambio stato fare x lo stato accorpamento verrà cambiato solamente relativamente alla fornitura che io devo andare a ricreare cioè quella dove ho l'errore e quindi devo ripercorrere al ritroso i passaggi che abbiamo visto prima devo andare nella gestione del pacchetto qui sulle mie vendite devo andare a mettere dato definitivo a no e poi devo andare in immissione revisione ad apportare la correzione la correzione io la potrei fare da qui oppure da immissione prima nota sulla fattura e rielaborare adesso per semplicità io la faccio da qua dentro e ordino per posizione xml abbiamo detto che la posizione assoluta era la 11 delle vendite quindi il documento incriminato è questo vedete infatti che qui l'imposta non è valorizzata ed era quello il motivo dello scarto semplicemente vado a valorizzare l'imposta e a confermare la mia operazione adesso il programma sente che io ho fatto una modifica manuale quindi mi suggerisce di impostare a sì il campo non sovrascrivere da elaborazione va bene ci mettiamo sì a questo punto io la mia correzione l'ho fatta quindi cosa faccio ritorno nel pacchetto lo metto a definitivo io adesso qui non cambio niente perché vado a rinviare oggi e quindi la data di impegno lascio quella faccio di nuovo l'operazione di controllo qui mi dava comunque anche prima che il file era valido il telematico non lo visualizzo e a questo punto vado nel mio invio telematico vado nell'invio telematico periodo 1 confermo la mia fornitura è questa è sufficiente che io ci entri dentro e la vada a confermare il programma mi ricrea il telematico con i dati corretti bene adesso cosa faccio rifaccio l'operazione di invio e a questo punto sempre il programma ci visualizza che sta autenticando e comunque sta inviando il documento è in elaborazione facciamo lo scarico della ricevuta ce lo da ancora in elaborazione vediamo ancora qui magari può essere il sistema ricevente che in questo momento diciamo così ha una situazione di blocco e quindi comunque non ce lo valida immediatamente ma vediamo che ora l'esito della ricevuta compare e il file risulta validato quindi avete visto che in questo modo noi abbiamo gestito uno scarto andando a fare le nostre correzioni e andando a fare il reinvio ora io vi faccio vedere anche questa stampa per completare il tutto che è la stampa delle ricevute di esito in via comunicazione questa stampa che vi stamperà tutte le ricevute che sono state scaricate chiaramente la potete anche lanciare da STD ed è sicuramente molto comoda perché vi permette soprattutto in casi di studio di gestire insieme tutte le ricevute vedete io adesso ne ho due che sono una relativa al file delle acquisti e l'altra relativa al file delle vendite che mi risultano accettati